lo so ragazzi è fortunatissimo allora adesso mi siedo ora un attimo aspetta un secondo ragazze c'è un problema in questa live che è il problema c'è il covid io ho fatto un tampone e oggi sono negativo allora vi dico una cosa allora c'è un problema non so se state notando scusatemi un il problema è che voi due state parlando e loro due no qual è il problema di questa cosa vuol dire che non c'è quel feeling che permette una conversazione univoca tra tutte le persone e un flusso di coscienza unico che possa integrare tutti i membri del gruppo ma non stanno parlando no lascia fare a me hai ragione hai ragione perché no hai ragione allora muzzolona aspetta andiamo andiamo a scaglioni muzzolona presentati a camilla masato e di quali sono i tuoi interessi e tu camilla masato risponde ma che cavolo di live è questo allora via c'è lì è balcone se vuoi anche buttarti no è che questo non lo puoi dire la terza ragazza tanta robina eh era tanta robina è camilla tanta robina non tanta ma tanta robina tanta robina va bene c'è contento vai prego grazie per te piacere camilla piacere mi interessi posso fare una battuta che interessi hai jody ma parlate tra no dai ragia tu ti ha detto jody ha detto veramente questa clip raga clip ah lì c'è una coglione no ho fatto una premessa ho detto posso fare una battuta no nessuna battuta non era una battuta era una battuta infelice però posso dirti però così mi offendi si si è anche per scherzo vabbè secondo interesse ovviamente Simo terzo Ale ah ok buono sono messi in ordine di importanza? no in ordine casuale non c'è sono tutti importanti per me non ho capito io faccio parte di interessi secondo però in ordine casuale quindi quando dici in ordine casuale dici il primo sicuramente il primo non è il primo quindi tu sei palesemente ultimo